Mi chiamo Maria Marinelli, ho 21 anni e sono originaria di Riva del Garda. Sono cresciuta bilingue, in quanto mia amma è tedesca, quindi ho anche la doppia nazionalità, italiana-tedesca. Quindi ho sempre avuto un po' questo spirito internazionale, questa voglia di andare all'estero. E ho iniziato, vabbè, durante tutti i miei anni di liceo e di medio ho sempre fatto un mese di scuola in Germania. Però quando mi sono davvero trasferita all'estero avevo o 16 o 17 anni, non mi ricordo bene. In ogni caso era per la quarta superiore. Sono andata a vivere a Cambridge, in Inghilterra, dove poi sono rimasta anche il quinto anno, perché mi è piaciuto. In seguito ho deciso di fare un anno sabbatico, mi sono trasferita a Parigi. Mi è piaciuta molto la Francia anche e quindi sono rimasta lì per i miei studi e adesso studio a Sciences Po. Allora, a Cambridge la cosa che più mi ha colpito all'inizio, soprattutto perché è stata anche la mia grossa difficoltà per superare gli esami del primo anno, mi sono resa conto che qui non avevo mai imparato a scrivere e a strutturare quello che scrivevo. Quando scrivevo un tema di italiano iniziavo, finivo, ma non c'era niente di strutturato. Lo scrivere in modo accademico non mi era mai stato insegnato. All'inizio ho trovato difficoltà perché loro lo fanno a partire dalle elementari, anche se scrivono dei testi di a dieci righe, introduzione, struttura, conclusione. E questa cosa sta fruttando tantissimo, anche fino adesso, quando devo scrivere una tesina per l'università o anche nei miei esami scritti. Riesco a scrivere in modo pulito, conciso, arrivo sempre al punto, faccio dei ragionamenti logici. Cioè, leggere un mio testo è molto più interessante leggere un mio testo di adesso che quello di prima. Questo sicuramente è un punto di forza estrema perché sento anche i miei amici qua che dopo la triennale devono scrivere una tesi, si mettono le mani nei capelli e non sanno neanche da dove iniziare. A Cambridge, ma penso anche da altre parti, c'è questo sistema del crescere a scuola. Qui in Italia la scuola l'ho sempre vissuta come il posto in cui vai dalle otto a mezzogiorno, insomma, otto meno un quarto, mezzogiorno un quarto non cambia molto. Invece, in Inghilterra, la scuola è il posto dove cresci, passi la tua giornata, è il tuo circolo dove socializzi, cresci, impari, fai, hai associazioni di tutti i tipi, associazioni artistiche, club sportivi, tutto gratuito ovviamente. E quindi inizia a trovare il tuo posto nel mondo, inizia a capire che devi provare di tutto e fare di tutto per trovare il tuo posto nel mondo, che non è solo le materie accademiche che importano, cioè cresci come persona e ti sviluppi insieme anche agli altri. Qui, una volta che uscivo dopo scuola, andavo a mangiare, mi trovavo fino a sera magari sette ore libere, e questa cosa non ti sprona a metterti a studiare, a fare qualcosa. Invece a Cambridge sapevo, ok, adesso ho due ore buche, poi magari ho teatro, oppure ho il club di dibattito, quindi in queste due ore mi metto a studiare, poi ho questa attività, cioè riesci a conciliare tutto. Credo che il sistema Cambridge mi abbia insegnato che riesci a conciliare tante cose. Che qui in Italia sento spesso la scusa degli studenti non abituati, eh ma sì, fare questo, il calcio l'ho smesso perché il liceo è duro, così. Invece io conosco persone, io stessa facevamo sport di competizione, facevamo anche un'attività artistica e allo stesso tempo facevamo una scuola che comunque era molto difficile perché c'è una reputazione fantastica. Quindi penso che anche per diventare grandi, conciliare la vita di tutti i giorni, tutte le cose che hai da fare, aiuta e penso che riesco a strutturare la mia vita universitaria molto meglio avendo avuto questi input. Io mi ricordo che qui al liceo avevamo due corsi extra e potevamo scegliere tra musica e tematiche ambientali. Invece a Cambridge avevamo un'infinità di opportunità. Cioè la voglia di scriversi in qualcosa è maggiore. La scelta è immensa, non sei obbligato a fare niente alla fine, ma visto che sei in questa atmosfera, che tutti vogliono fare qualcosa, tutti vogliono eccellere nel loro progetto, che sia fotografia, che sia nuoto, che sia hockey, che sia lacrosse. Cioè ognuno vuole eccellere in quello che fa e quindi anche gli altri sono stimolati da un certo punto di vista. E non c'è questo... Qui ho sempre avuto un po' l'impressione, al liceo per esempio, senza puntare il dito su nessuno, che però magari chi faceva anche teatro o dibattito, erano un po' gli ultimi secchioni arrivati, non integrati nella società. Cioè adesso sto un po' esagerando con le parole. Però non era una cosa da fighi, invece a scuola da noi i più fighi erano quelli che erano in tre progetti. Cioè è un sistema che ti spinge a dare di più anche al di fuori dell'accademico. E ci riesci perché sei in questo sistema dove tutti lo fanno e dove hai valorizzato, diciamo. Beh, quello che è successo dopo la mia maturità ero un po' in questo limbo. Mi si è offerta questa opportunità di fare la ragazza a Parigi, tramite amici di famiglia. E mi sono detta, non ho niente da perdere, una lingua in più da imparare, perché no? Al tempo non parlavo neanche una parola di francese. Difatti quando sono atterrata a Parigi e ho realizzato questa cosa, mi sono detta, vabbè, coraggiosa, come è, come direbbero i francesi. Però così, in realtà questa cosa ha fruttato più che qualsiasi altra cosa che ho fatto nella mia vita, perché avendo imparato francese e essendo a Parigi ho scoperto di questa università che si chiama Sciences Po, che è l'università in cui studio adesso, e quindi ho potuto fare il test d'ingresso. Cioè, alla fine mi ha aperto questa porta enorme di poter studiare in questa università, che ora non tornerai indietro, non andrei a Oxford, Columbia, tutte quelle altre cose a cui avevo pensato prima. Cioè, non le scambierei mai per quello che ho adesso. Sono appunto stata presa a Sciences Po Paris, che però per la triennale hanno deciso di creare questi campus in giro per la Francia, che si specializzano nelle scienze politiche di una sfera geopolitica, diciamo, del mondo. Però anche il fatto che siamo in questi otto campus con delle identità culturali comunque abbastanza forti, tipo all'Oeuvre c'è il campus asiatico, a Reims, capitale della Champagne, c'è il campus americano. E quindi, insomma, si crea questa identità di campus molto forte. Sul mio campus credo che siamo in 320 studenti, massimo proprio. E quindi si crea questa identità di campus, tutti si conoscono. C'è anche una... certi lo criticano dicendo, ok, torni al liceo. Però, visto che comunque il ritmo accademico è andante e tutto quanto, secondo me è sopportabile. Cioè, penso che l'esperienza che fanno le mie amiche che studiano qui a Bologna, Firenze, Trento, Roma, e quella che faccio io, è molto, molto diversa. Perché l'università non è il posto dove vai per sederti in un anfiteatro gigante a registrare una lezione che poi ti iscrivi gli appunti a casa. Ma, punto primo, per ogni corso abbiamo delle classi dove siamo in una ventina, più o meno. Dove approfondiamo, possiamo chiedere tutte le domande che vogliamo al prof. Abbiamo un contatto diretto col prof. A Sciences Po, nel nostro percorso triennale, siamo obbligati, dopo il primo anno, a fare uno stage di un mese. Pensato per integrare, diciamo, il nostro percorso molto, molto accademico e per avvicinarci alla vita lavorativa. Quindi, quello che io ho deciso di fare, questa estate, che appunto era la mia estate dove dovevo fare il mio stage, è di andare a lavorare in Sicilia, a Palermo. Ho lavorato per il comune. E la mattina lavoravo in un centro di accoglienza di rifugiati. E il pomeriggio facevo appunto l'aspetto un po' più accademico, ho cercato di mischiare il pratico e l'accademico. E lavoravo per il sindaco Leo Luca Orlando. Poi c'è anche una certa continuità per quanto riguarda il mio percorso in Inghilterra e quello che sto facendo in Francia, in quanto la vita associativa e sportiva è molto simile. In università ci vengono offerti un sacco di progetti, cortometraggio, organizzazione del gala di fine anno, dibattito, imparare a parlare svedese, nuoto, pallavolo, c'è di tutto che ci viene offerto. Ma cosa particolare è che in questo caso sono tutte associazioni fondate dagli studenti, punto primo, cioè all'inizio quando la nostra università è stata creata non è che hanno deciso, ok, vogliamo creare delle attività extracurricolari, no, è che con l'andare degli anni è arrivato uno studente con un interesse nuovo che è riuscito a tirarsi dietro cinque amici e adesso sono diventate proprio delle associazioni, dei club con un conto in banca, con tutto quello che ha un'associazione, siamo delle associazioni a livello legale vero e proprio. L'unica cosa che fa l'università è di finanziare questi progetti, ci sostengono dal punto di vista legale, quando andiamo in banca, tutte quelle cose così, ma i presidenti di tutti questi progetti sono degli studenti che ricevono i fondi dall'università, se li gestiscono devono anche fare il resoconto al direttore ogni tot, però selezionano le persone che ci possono entrare perché tanti progetti hanno anche uno scopo competitivo poi e comunque devono gestirli, preparare ogni incontro, preparare ogni allenamento, ad esempio io sono presidentessa della squadra di cheerleading della mia università e in tutto faccio tre allenamenti in settimana e comunque che tutto sommato sono 4-5 ore di allenamento in settimana che io devo preparare e ci devo mettere almeno 6 ore di preparazione per preparare ogni allenamento o per esempio faccio anche parte del progetto gala dove appunto organizziamo il gala di fine anno e mi sta insegnando tantissimo perché nessuno ci aiuta dall'università, forse un pochino sì il direttore se abbiamo bisogno di un contatto lui ci dà l'email, però poi le pubbliche relazioni, adesso stiamo per esempio cercando di affittare un castello gigante per il nostro gala che è abbastanza ambizioso perché devi convincere comunque la regione a darti il castello che non è una festicciola di studenti che si ubriacano e basta che è una cosa abbastanza ufficiosa e andare a degustare vini, cibi cioè ok uno pensa figata ma c'è dietro un'organizzazione cioè leadership skills, organization, pubbliche relazioni cioè impari tutto con le tue stesse mani e con i soldi dell'università cioè tu non ci devi mettere un centesimo, devi solo eseguire e questa è un'opportunità come nessun'altra penso, anche solo gestire le finanze di un progetto cioè è comunque importante sicuramente sviluppi capacità che sono spendibili sul mondo del lavoro e ancora una volta arricchiscono il tuo curriculum penso per il mio futuro, vabbè, grazie ai miei stage sto vedendo un po' dove andare a parare nella vita concretamente ma penso che sia il campo dell'istruzione quello che mi interessa più di tutti perché c'è la cosa che mi tocca di più nel profondo diciamo e infatti andrò a fare uno stage a Londra per la Apple molto probabilmente l'anno prossimo nel loro management dell'educazione per appunto vedere se è davvero quello che voglio fare se è davvero quello che praticamente cioè dove le mie abilità sono meglio spese anche però è l'educazione diciamo il campo che mi interessa di più politica educativa grazie a tutti 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 grazie a tutti